Inverno 1944-45, siamo a Budapest nel pieno della barbarie nazista ed un uomo riuscì a salvare dallo sterminio circa 5200 ungheresi di religione ebraica con uno stoico stratagemma, inventandosi un ruolo, quello di console spagnolo, lui che non era né diplomatico né tantomeno spagnolo. Parliamo di Giorgio Perlaska, straordinario eroe dei nostri tempi, figura emblematica di coraggio e giustizia che oggi più che mai rappresenta un esempio da seguire, un vessillo di alti valori da consegnare alle future generazioni. Presso una grimita, salarossare il castello di Barletta, incontro speciale dedicato alla sua figura, alla presenza del figlio Franco e della nuora Luciana. Un incontro organizzato dal Rotary Club di Barletta, presidente Sabino Montenero, con un obiettivo preciso. Rotary, l'ho più volte detto, è servire al di sopra di ogni interesse personale. Per Perlaska cosa ha fatto? Ha fatto una cosa grandissima, rischiando improprio, portando alla salvezza, verso la salvezza delle persone che non avevano nessuna colpa, che fuggivano a un sistema di epurazione di massa intollerabile che offende gli uomini. Ed è importante anche fare anche un confronto con il nostro momento storico. I nostri forni crematori è ormai il nostro Mediterraneo, dove tanta gente ci muore. Perché ci arriva là? E allora bisogna riflettere un pochettino su queste cose, cosa sta succedendo e come mai cinicamente restiamo a guardare certe immagini in televisione. Un incontro che ha visto l'intervento di autorità politiche e militari, rappresentanza del sindaco, gli assessori Patrizia Mele e Giuseppe Gammarrota. Un uomo giusto, dove tale accezione è molto di più che un semplice aggettivo. Per l'ASC, infatti, è annoverato tra i giusti della nazione onorificenza speciale attribuita a chi ha agito in modo eroico, a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista. Un albero a suo ricordo è inoltre piantato sulle colline che circondano il museo dello Yad Vashem a Gerusalemme. Soffermandosi sul concetto di giusto, la giornalista Serena Asguera, moderatrice della serata, ha evidenziato il significato più introspettivo del termine che risiede nel potere di dire no operando una scelta, quella di essere un uomo. Una storia che fa scuola, quella di Perlaska, quando tornato in Italia decide di non raccontare nulla di quanto è avvenuto alla sua famiglia, semplicemente perché riteneva di aver fatto il proprio dovere, nulla di più, nulla di meno. Come ha ricordato commossa la nuora Luciana, considerata da Perlaska come una figlia, a far scoprire il grande atto di coraggio del suocero, la famiglia Leng, che a fine anni Ottanta mise sul giornale della comunità ebraica di Budapest un avviso di ricerca di un diplomatico spagnolo, George Perlaska, che aveva salvato loro e tanti altri correligionari durante quei mesi terribili della persecuzione nazista. Ed ecco dunque l'importante eredità lasciata al figlio Franco che ha dato vita ad una fondazione in onore del padre. Una brevissima frase detta a un giornalista che gli chiese ma perché bisogna ricordare questa storia. Lui rispose io vorrei che specialmente i ragazzi si interessassero a questa vicenda unicamente per sapere quello che è successo e saper opporsi a queste violenze se mai dovessero ritornare. È un eroe no ma un giusto e secondo me il giusto è un qualcosa in più. È un eroe con un piccolo grande valore aggiunto, la capacità di tacere e la capacità di non vantarsi di quello che si è fatto di bello e di buono.